Nascosto nei boschi di Galiga, è ancora oggi presente un curioso edificio in pietra. È la burraia Ninetta, che serviva a produrre e conservare burro e formaggi, attività protagoniste della vita della gente dei campi dei secoli passati. Fu costruita dalla famiglia Gondi nel Quattrocento all'interno del vasto possedimento della villa di Grignano, nei dintorni di Pontassieve. Visitando l'antico edificio, oggi parzialmente restaurato, si ha l'impressione di tornare indietro nel tempo, quando fra le sue fresche ed umide mura si lavorava il burro. Sulla pietra che avvolge la burraia, una mano di tanto tempo fa ha lasciato un'affettuosa dedica, e una data, Ninetta 1868. Si pensa che l'incisione sul muro sia stata realizzata per Caterina Ninetta Vecchi, moglie del Marchese Eugenio Gondi, proprietario della tenuta nel 1868. Grazie per la visione! Grazie per la visione!